A dorso marzo nessuno vuole sentir parlare della nuova centrale idroelettrica che dovrebbe essere realizzata da una ditta privata lungo il fiume argentino. Persino il Consiglio Comunale lo scorso giugno ha votato all'unanimità il proprio parere negativo alla costruzione dell'opera ed anche l'ufficio tecnico dell'ente ha detto no. Secondo il primo cittadino Paola Maria Candia la struttura deturperebbe l'ambiente ma soprattutto il comune non era stato per nulla informato di questo progetto ma si è visto giungere tutti i particolari senza nessun preavviso. A fine maggio dalla provincia abbiamo ricevuto questo progetto senza avere contatti né con i progettisti né con la ditta che si doveva occupare della realizzazione. L'abbiamo visto in effetti come un qualcosa che viene a deturpare il nostro territorio anche perché si significava prelevare quasi tutto il fiume nel periodo estivo lasciando a secco anche le coltivazioni perché a valle della presa dell'acqua per la centrale c'è la presa invece per il consorzio di bonifica per l'irrigazione. L'iter va avanti l'opera infatti ha ricevuto il parere positivo preliminare dell'autorità di bacino ma ancora manca quello del parco nazionale del Pollino visto che il punto in cui viene prelevata l'acqua rientra nei confini dell'aria protetta. Da indagini così che sono state fatte anche all'ufficio tecnico siamo in piena zona parco e quindi c'è anche il parere del parco, anche il parco deve esprimere il suo parere non appena ha avuto modo di esaminare il progetto. Alle opposizioni che abbiamo avuto c'è anche quella delle quattro associazioni, di quattro associazioni presenti sul territorio, anche loro hanno espresso il loro parere negativo quindi motivandolo e queste osservazioni sono state consegnate alla provincia. Grazie a tutti!